Don't come la foto va Hey everybody My name is E-Double Their name is PJ Harvey Let's go My mama told me Yeah Eee welcome back guys Quefrizzoschi vi parla E oggi siamo tornati su Final Cut Per la seconda volta della giornata A portarvi questo nuovo fantastico gameplay Ovvero la prima mob Eseguita dal nostro Rise Insane Su TCT con la Magnum Ragazzi non è l'unica Bensì la prima in Italia Perché ora vi spiego E' stata caricata per la prima volta Cioè Youtube ha visto per la prima volta Questo gameplay in Italia Sul canale di Insane appunto E invece ce ne sono solo due in Italia Se non vado errate ovvero questa Che è la prima caricata su Youtube in Italia E un'altra che l'ha fatta il buon caro JDF Shots Comunque appunto è la prima che Youtube Abbiamo mai visto in Italia Di conseguenza la carichiamo come record E ho detto sette volte in Italia Quindi in Italia C'è una cazza che nessuno di nera Dopo questa grandissima cazzata Allora io non mi chiedete la classe Non mi chiedete se fosse specialista Non mi chiedete di che squadra sono Perché non so un cazzo Ho un'amnesia totale Ok non so un cazzo No comunque a parte gli scherzi Non so nulla come sapete perché su Mv3 Mv3 non ci ho mai giocato E non l'ho mai avuto Quindi non so neanche come si chiama Come si chiama la mappa Non so niente Quindi se avete dubbi Domande Problemi Chiedetelo A Scrivertelo nei commenti E il nostro Insane sarà Felicissimo di rispondervi Per essere anche una Di una mob Fatta con questa arma Che Da quello che riesco a vedere È simile all'Esecutioner di Black Ops 2 Potrei dire una cazzata Non lo so Però è sempre difficile Perché appunto sono pistoline di merda Che se non la connessione non sciottano Cazzate varie Comunque È fatta appunto abbastanza velocemente Per essere fatta anti-CT E con una secondaria Però può essere che ho detto una cazzata Perché sto vedendo Sciotta come in peggio cani morti Malati con l'Ebola Per 2 Comunque I gameplay di oggi Che appare a me sono stati Non il topo che abbiamo Siamo però veramente Bellissimi Soprattutto quello di Peppy Che a parer mio Lo ridico qui Mi è piaciuto molto Perché mi ha fatto vomitare Arcobaleni Perché è veramente rasciato Anche questo è abbastanza rasciato Molto carino da vedere Molto simpi Easy Easy Di LOL Comunque appunto ragazzi Vi voglio ricordare Anzi Vi voglio dire Assolutamente E se non lo fatemi Incazzo con un animale Proprio Peggio di abbandono Quando divento una pescita Mi schiatta la Viewlands Dovete passare Assolutamente Dal canale Grafico Che ci ha fatto Sia la intro Sia il Sia la intro del clan Le 2 intro del clan E sia Una mia La mia intro persona Che per chi mi seguisse Sul mio Canale personale Che non lo fa Per favore Ci passi E ha fatto veramente Una cosa stupenda Quindi veramente Merita tantissimo E' veramente Veramente disponibile Su whatsapp Neanche due giorni Che glielo ho chiesto E me l'ha fatta Quindi ragazzi E' una bravissima persona Un bravissimo ragazzo E merita tanto Quindi mi raccomando Mi fareste tanto felice Se passasse Dal suo canale Tanto non vi costa niente Link Iscriviti Anche se non lo volete seguire Basta che Diciamo gli diamo iscritti Per fare i soldi X di LOL 1-1 Punto esclamativo No comunque Inoltre passate anche Dalla pagina Facebook e Twitter Come vi dico sempre Inoltre passate al canale Quindi il cinema penso che sia inattivo Inoltre Passate al canale L'altro caprico Quello che ci ha fatto Grafico Quello che ci ha fatto Intanto mi cade La carica dell'iPhone Quello che ci ha fatto appunto Le miniature Quindi niente Ci si becca Un prossimo video Qui da frizzato è tutto Belli Richella Buona 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 sganch Facebook.com Slash EatUpHipHop Twitter.com Slash EatUpHipHop And It's 3.32pm On Thursday March 17th And I haven't even had a drink yet today Ciao Grazie a tutti